Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Oh, il riparo là. Oggi siamo su noi non fa niente. Sì. 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 Aspetta che prendo gli straccetti, gli straccetti. Che volete dire? L'ho preso su i sacchi da mentre... Ah, che ti si bagna là? Adesso si è fermato perché a quel giorno diluviavano. Non se la porti in macchina? Mi conviene? Che non l'ho trovato quando ero un piccolino e ve l'ho fatta... Cosa? Vuoi portare in macchina? Ti approva una? Sei lì. Avete bisogno di una scuola? No, no. Sto pensando che ero via, ma si va nel giro? No, no. No, no. Si muove. No, no. Sto pensando... Per asciugare? No, no, no. Mi sono... Stavolta mi sono... Eh, attrezzata, attrezzata. Sì. 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 È molto contento, ma... Vedi… Sì. Sì o faccio… Si dobbiamo dentro, no? Se non posso andare sotto questo qui ma che viene conciputato. Sì. Non ci serviamo adesso! Sì. Non acho, sì. Vitamente unото a cui pium我有� esprimverti. Grazie a tutti. 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 Buongiorno. Ciao, ciao. Grazie a tutti. 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 i suoi pioveri fi zumi conflicts i suoi pi surrenderi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pallo è entrato in gioco pericoloso. Grazie a tutti. 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 Arbitro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. che. a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.